No però, come affermazione non era tanto vera, però finiamo per buono, anche perché mi arriva la notifica a me, come sempre, ma il mio stesso cellulare arriva. E quindi, Seretta, Oratti, ciao ragazzi, ragazzi vi chiedo gentilmente di darmi conferme, a parte che audio lo faccio io adesso, hola 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 hola, era lontanissimo il microfono, ora, oh oh oh, ok, sembrerebbe DC, Ragazzi mi piacerebbe che mi dite come si vede, e tutto queste cose, ragazzi mi piacerebbe che mi dite come si vede, Ciao ragazzi, oh bella ragazzi, ciao ragazzi, sono Patrizia, ciao Panta, si vede bene, si sente bene, bene bene bene, grazie. Grazie a te, stupido baby, non ho lasciato la ganga baby, perché mi sto un po' allenando, e vai, quelle di sotto accendo le moto, benvenuto a todos, di più sale, cosa vuol dire più sale? Salti! Hai perso il codice? Questa cosa mi stupisce che uno perde il codice, come fai a perdere un codice zio? Inge, come fai a perdere il codice? E come fai a non guardare la descrizione del video che c'è il codice? Mannaggia, mannaggia. Mannaggia, mannaggia. Cacca show, cocco è tranquillo. Perfetto, questo non lavora a 60 frame, lavora a 1080, lavora tranquillamente. Tranquillo. Forse con l'hoop scaling non mi da il problema. Il mosquito è nel piede, cari, non c'è problema. Cortate il piede, e vedete che non ti pica mass. Questa è la soluzione più pratica che si può incontrare, cari. Ciao, Matteo. No, ce l'ho chiuso. Allora, scusate. Tranquillo. Tranquillo. E' un buon match. Ciao, Mago. Vale, non tenterè. Tenteren, tentere. Non tenterè. Sembra una sciola di uva. E meno male, Wanda. Continuiamo qua, anche se questa gente che non mi è un tanto simpatica. Sì, 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 lo so, lo so. Vici, vici, vici. Fussacce, come lo chiamo. E Mago, qualunque non lo sa fare, tutto il mondo, lo so. Vuoi sentire come si sente sul computer, un attimo? Perché sento l'audio, io lo sento abbastanza. Non lo sa fare. Maltissimo. Ma come mai nel computer io lo sento, cioè nel, come si chiama, nel cellulare lo sento bassissimo. Senti come si sente? Hai provato? Senti? Molto bassissimo. Per quello io non posso fare fiducia al cellulare quando faccio la prova audio. È stato duca, no? Fanta, mi sa. Non mi sbaglio. Oui, me pegaron nel collello. E perché? Che hai fatto? O che non hai fatto? Perché non hai fatto il suo pingo? Perché non hai fatto il suo pingo. Che cosa è vero? È la nina del secondo. Ah, non ho tirato lo Nails Oh mio Dio Nail Volevo dire, dove credi che vai? Ah, non so, ho visto qualcosa su Twitter Anche di un post Di cosa? Il compleanno Perché non gli diceva Il compleanno Che vi sia l'abbiamo cantato, no? Sì No, ieri no, prima ieri E' un altro ieri Buonottea fanta Non l'hai ammazzato tu? Eh? Va bene Ok What? Quando, quando, quando? Radii Max Grazie Va bene Con te ce l'ha, eh? Cosa è scritto? Non dovevi togliere, eh? Non dovevi togliere Frank come moderatore Ma che fai tu? Minchia Frank, ma mi tocca farlo, lo sai? Qua lo stanno Lo stanno chiedendo proprio, eh? Qui quasi quasi, visto che comunque Latti sta donato, lo facciamo moderatore a lui Lo facciamo moderatore a lui Minchia Ratti, lascia stare Va, che è l'unica persona che veramente Ha la faccia di moderare un pochettino Però mi sta un po' sulle palle, ti dico Perché sta diventando troppo studioso Troppo britici il ragazzo Grazie Ratti comunque, di cuore Con il reaction mi ha spaventato Eh, io non ero pronta per quello Minchia Come stavano a tirati? I dieci centesimi I dieci centesimi che mi hanno fatto più ridere di tutti Te lo giuro Minchia Abbiamo iniziato a gridare mentre ridevamo Quando ho visto studiare ci ha detto Che cazzo è successo qui? Hola, Anthony Assetta, Assetta Che tal, Anthony? Tato di bene? Hola, Anthony Sorry No, lo entiende, è buono Si, vale But if we can chat in English, no? If we understand in English Ciao, Sassino Ciao, Sassi Allora, Assetta Fammi salutare qualcuno Cioè, fammi salutare tutti Tutti Allora Visto a un bordellone di gente Io trovo come ne devo andare Eh, dai Novatastic Chi è Novatastic? Leo Novatastic Allora Anthony Calamaco Fanta Cheche Saretta Sassi Cari Matteo Novatastic Ratti Vici Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Superpro Ciao Ciao Non è tardi No A chi siamo? Ciao Ma poi mi hai dato tipo 50 centesimi Wow C'è Omar in partita Omar Viro Omar Quando è bello È bellissima questa canzone Novatastic No, sorry man You cannot join in voice chat Only my moderator And I normally We speak in chat Sorry man I don't know you So Che minuto avete iniziato a urlare No, Saretta Era un urlo che ho fatto io Imprevistamente Sara Tu devi capire che veramente La community si sta svolgendo Stile community Perciò quando non abbiamo niente da fare Veramente Qualsiasi ora essa sia Se c'è qualcuno Che vuol parlare Facciamo partire la chat vocale Succede un bordellone Io ho fatto una specie di yodel Io credo che se lo vorrei fare di nuovo Non ci riuscirei A me scappa un rutto grossissimo Un rutto? Si, sono fatti un rutto Ma le scorreggia Sono ruti che vanno verso il basso Aspetta che faccio No, doc Di questo si dovrebbe fare un meme Come usare motion control Senza avere motion control Vieni qua, vieni qua No, non è sceso Scendi di qua È incantato Che è incantato, cari Eh, ratti È di È di De dire in Spagna Algun dia Ir a Spagna Sì, è di Di qui Sono La 4 e i 26 Della Della Tarde A un Teniamo Muccio Tiempo Vale Muccio, mucho, mucho Tiempo No, perché Jason Quarenta minuti Si tiene che irse E Chicos Io ora è un diretto Ni tan largo Ni tan breve Ni tan corto Perché Tengo che settare un Toto Dell'ordinatore A ver se funziona OBS con la catturatora grafica che tenia Ai Intensiamo a sapere lo che passa Chicos Sara disegna Minchia Un ordine O sta disegnando Sara Chi lo sa Come è avanzato Cosa? Quello No, non l'ho visto Io sto dedicando Ma neanche l'ho visto io a quello Sto dedicando il tempo Ai miei ragazzi Allora Vediamo Jessica Molto incazzata Che splatta Qualsiasi cosa che si muove Bravissima Così si muore Non dovevi parlare Tu continui a parlare Questi saranno I 79 Usuari più lunghi da fare Penso di tutta la nostra vita Lo sai? Eh, ci sto Per arrivare a 1000 Sarà veramente difficile Chicos Parese che Emo legato Allo 900 A Sitan Veloz Che ora Se da 900 a 1000 Mi costa un monton Io chiedo subito 1 0 0 0 0 A ora Ecocentrismo? Sì Lo so Ti stai sablando Con un mito Ero concentrista Ragazzi Solo vi dico una cosa Osmando E il dibuco E il dibuco che ise Claro cari E inviamelo in discord O a me o a Jerry Da uguale Sì Si chiede Claro Si chiede Compartirlo Ragazzi Fortnite per Switch Spero che facciano qualche miglioria Come nuotare Guidare mezzi Non costruire più cose in aria Lo vedo difficile Comunque Assassino Assassino Ma ve lo siete ricordati il like? O devo venire a casa vostra a vedere sul vostro cazzo di computer se avete messo quel pollice nel su? Eh? Sono stato convincente Frank? Sì Santissimo Ok Voto 10 Voto 10 Sei contare fino a 10 tu Frank? Allora 1,2,3,40,50,79 Manca quello lì con 6 A me mancano 3 dita Ragione per cui non riesco a contare fino a 10 Mi fermo a quello dopo Due dopo il 5 No, no Chiesa che è stata la prima a mettere la Chi è? La prima Saretta La moglie di mia moglie Ah Ora capisco No come ieri Sto giocando con mia moglie No non stiamo giocando insieme Non parlo di te Cioè Questo è il mago? Questo è il mago? Questo è il mago? Stai anche il bingo quando passano la perezza No è la sala Sì sì Quando passa la perezza arriva la melezza Perché dopo le pere c'è le mele Oh cazzo Io il 2 Io il secondo a mettere like Io il sesto Io ragazzi sono stato il settimo L'ottavo Il nonno Il dieci L'undicesimo Il dodicesimo Quanti siamo di like? Aspetta Dimmi 12 Ah no C'è uno che si è dimenticata Mi sono dimenticato allora con un account Solo con 9 account ho messo i miei cazzo di like Magari avessimo 9 dispositivi Che me ne faccio Che me ne faccio Nei dispositivi Questi sono YouTube cheater si chiamano Quelli che per un po' di auto egoismo Minchia si comprano 10 cellulari per mettersi 10 like Sbodo booo Non ti chiudere lì Non ti chiudere lì No 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 Oddio mi ha ammazzato Grande quieto Allora che c'è? Che c'è? Tu che io non sto neanche giocando Non puoi rendermi sempre partecipe Chi è Marco? Non lo so Ma io lo vedo Ti vedo scritto su tutti i muri Ogni canzone mi parla di te Questa notte questa città Mi sembra bellissima Chissà se sei se cala Marco Questa è una canzone di Giovanotti Era bellissima La canzone penso che sia uscita nel 90 Allora calcolo i fatti Calcolo i fatti 93 94 Minchia mi piacerebbe che vai a vedere se è così Per vedere se la mia memoria è ancora di merda Ho migliorato Giovanotti Ti vedo scritta su tutti i muri Allora cosa dice Cosa dice invece il nostro amico Se vedi molto idioma Io appena sto apprendendo l'inglese Mira super Sin problema Perché io ho apprendito l'espanol E l'inglese Ora Poco a poco Quindi se ti piace Se ti piace Sì Apprendendo Poco a poco Ricorda che a chi hai una like Donde si hable Si scrive Bastante idioma Non dico che sono come Come un esercizio Però Poi sai che si chiama Chissà se sta dormendo Però no Cosa sto detto? Ti metto scritto se tu ti muo No Quella era all'inizio Allora Poco appena devo aggiungerti come amico Con il tuo numero account E io Io qui sono Non ti preoccupare Niko 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 25 minuti Después Niko 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 Eh Si 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 engine In queste partite Mi fate vincere così mai 95 manca poco dai. E' il 95. Che anno? Non ti faccio un regalo dai 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 dai. Manu? Manu! Hola guapa che tal ha il regalo Manuela. No 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 ti preoccupes che non l'hai perdito io che schiaccio jessica da ogni parte dove posso schiacciarla allora prendo le ginocchia e schiaccio le ginocchia ma quello italiano quello spagnolo ratti perché se quello spagnolo ma non c'è è bello se quello italiano buttalo perché non ce l'ho più da due anni 34 credo la luna è diventata rossa chi che luna la luna sta giocando zella oh gesù come odio quando succedeva quello c'era orribile ti sforzi e poi ti butta tutto giù madonna mia ma guarda sto stronzola ma no mateo nico 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 oh mio dio voglio essere anch'io artista di canzoni nico 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 e si adesso mi faccio fare il taunt di crazy justice di crazy justice che dice nico nico ha visto ogni volta che lo vedo mi faccio splattare perché mi ha detto che mi fa il regalo di natale ah boh grazie per avermi detto che lo levo perché sono ancora chiamano qualcuno che non si lasciamo lasciamolo e niente come l'hai fatto già ce lo spiegherai cosa come è conseguito alla fine poi ricorda che io faccio io mi tengo che ma tu eres ma sveloce del vento e manu lo so che chiediamo sempre che quello con nosotros si tu sempre che te ma sono da casa si come tonto perché sono tu youtuber preferito favorito ma alla fine cosa cazzo c'è la gente con questo despacito 2 ma perché ragazzi ma non era di moda tipo mezzo anno fa ok se hai fatto un freestyle fino qua frank siamo a 44 già a 5 bonifico che immagine fanta che immagine poi con accademia madre mia ma è per favore che non tiene che chitare il posto Einstein a chi costante meglio deve che studiare demasiado si poi oddio ma Yoshi in che l'uovo dal culo ti esce Yoshi lo sai come chi è Alex non sei chi è Alex hey here comes Alex la conosci la conosci la conoscevi questa canzone che canzone che cantano in tedesco hey qua arriva Alex eh falla arrivare tipo dei 90 e tipo ai 2000 c'era stato un huracano in Germania che si chiamava Alex e poi notato la canzone la potete si smettere per favore di fare Mario Kart per la mappa a me piace troppo perché almeno la gente si distrae guardate dove sono partito da lì e lì ho fatto lo splash oh mare ci sei? ciao di romare quando è bello oh mare è bella sta canzone come meldorum la cosa brutta è che stavo cazzeggiando su paypal quando ti ho inviato quei 20 centesimi per sbaglio e poi la cosa bella è che mi hai chiesto 10 centesimi di ritorno e tu mi dici 50 io 10 non ho mandato qui è Alex? ah io sono Alex ah non mi chiamo Alex Alessandro ahah ora l'ho entendito chi è Alex? e guardavo la chat mi sono state fast con i 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 non dieci ma più volte caso ok l'effetto una retrotonazione di varie volte dieci centesimi io sì no no dieci ma più volte ha detto ora ottolin ora 8 che mi chiamiamo lecce benvenito benvenida io non lo sai che era stupro caro a un anno a dicio so io non ho perso in ombra vediamo si vediamo 8 l'ombra e mandiamo 9 tutte le ame chan e un chiamo cin cinciano o una nuova foto profilo che fa quello il disegno scusa non aveva capito fai te fai te non fai tu io me li amo sono italiano e me li amo emiliano qua c'è qualcuno no no sempre dal culo mattè che tu ci credo no con molto molto sforzo e poi ci sono animali maschi volatili che fanno le uova e non è che il uovo l'uovo è fingers alla fine ha inventato fingers l'uovo con la kinder chi era che ha inventato l'uovo era la kinder si no che ha inventato le galline le galline pensavo che diceva il kinder l'uovo che siamo discriminazioni tra gli uovo tutti gli uovo sono uguali uovo sprite uovo sprite uovo sprite uovo sprite è il mese dell'uovo sprite dove ma struzzi le uova le fanno dal naso eh? non capisco questa domanda mago gli struzzi ragazzi si fanno un culo per far quel uovo così grosso che non avete idea eh ma baffanculo erano i tre dai oh mio dio 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 dove è andato dove è andato dove è andato dove è andato Sopra, sopra! Bavanculo! Sì ragazzi! Struzzi! Non intendo gli uccelli! Ah sì? Che personaggio è? Che fa il culo largo Caga uova come... Ma che è questo rumore? Buona domanda! E lì? Madonna ma perché? Wow cara! Ci sono anche io due volte! Cosa sta succedendo? Eh Latti! Qualcosa sta succedendo di strano? Mi...mi...mi illumini? Cosa? Cosa? Non lo so Perché è di nuovo? Allora, hai ricevuto... Loro da Latti! Però non l'ha dato qua eh! Oh mio Dio, hanno fatto l'urlo! Ma perché? Ma hai sbagliato? O è apposta Ratti? No... Mi riesco a capire? O ti hai... Ratti ti hai chiesto un centesimo! Eh no, un mio test! Ah ok! Minchia Ratti... Ratti ti... Allora... Ragazzi Ratti! In poche parole mi arriva un messaggio da Paypal e mi dice... Ratti ti sta... Ti ha richiesto... Ti ha richiesto... Un centesimo! Che cazzo devi comprare la busta della spesa con un centesimo! Non è neanche! Ma nemmeno no! Oh mia Dio! Perché non è uscito? Ragazzi ma perché quelli di... Di Crazy Justice stanno mettendo i video mentre io sono online? Queste cose non si fanno eh! Ragazzi queste cose non si fanno eh! Ragazzi queste cose non si fanno perché io adesso devo vedere il video! Ah non l'ho già visto! Boy Wonder... I wonder how... I wonder I... Yesterday... Trump... Bubble... Blue sky... Eh? Io sono bravo in inglese! Ahia! Le buste bio costano due centesimi? Niente! Fai te! In Italia costano due centesimi le buste! Qua? Costano un minimo cinque! Chiaro! E non sono bio! Non sono bio! Anzi! Appena ne tocchi ti dà un problema le mani pure! E il Crazy esceta... Cioè tra Può essere massimo una decina di giorni. Però... sette giorni prima hanno detto che dovrebbero rilasciare tipo una beta! Non è confermato però... Io confido! ragazzi devo fare il mio movimento di Crazy Justice ragazzi, devo fare il movimento, il hometown per i miei caratteri e non lo so cosa devo fare il 16 è l'esame cioè ma Fanta ma tu stai giocando a scusa se te lo chiedo così eh durante una live di Splatoon tu stai giocando a un gioco che potresti giocare in qualsiasi minuto della tua giornata? ancora nessuno ti ha mandato a cacare oggi, è vero Fanta? stai aspettando proprio quello, è vero Fanta? eh ok ok io ti ho proposto Floss, lo so ma è che c'è anche in Pork Night il Floss, non è che mi piace poi io preferisco più il ballo di Totò quando fa la marionetta dai li mandiamo il Totò? vaffanculo un grande omaggio agli amici napoletani eh? se vuoi è bello poi alla fine, non è che è brutto Boy Wonder non ha il senso ma così muoio minchia eh Marco fai attenzione perché in Sicilia un bambino su tre muore sul divano per non alzarsi dalla switch oh mio dio sta già passando l'Italia e ti dico che due già si sono salvati eh mi sa che tu sei il terzo posso quando questi bambini sono stanchi e senza voglia di muoversi ehm allora latti ho pensato di fare il gesto italiano tipo ti taglio la gola ok? e poi fare l'ombrello un vaffanculo volante ok? oppure fare che guardo il tipo per terra batto le mani gli faccio bravo e gli mando il bacino mentre muore è bello è vero? no minchia ringrazia che non siamo da soli perché se no sai cosa ti aspettava adesso? eh? ah si è alzato pure ringrazia che c'è gente altrimenti facciamo una scorreggia del microfono come sempre Pingu stiamo parlando sobre sabes? è un giusto che non apre un trello vago però dame tu cosita è che Doc ha bisogno di elegire un movimento che si chiama TAUNT per la crazy justice per quando matas a qualcuno e non siamo indecisi sì perché Pingu sei demasiado famoso mazzonico e famoso allora mi erano un TAUNT proprio parami speciale ce l'ho da dire quello del braccio è bellissimo quello del braccio è bellissimo vero? si 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 non faccio il vaffanculo col dito faccio col braccio il nostro classico italiano ok? quella tarantella però noi ci stiamo già meglio come oh mio Dio si Frank ti sei stato conto non dovrebbero mettere perché si dice questo gioco? no lo so ma che me ne frega io ho 70 anni quasi se non la mettono a Peggy 72 posso giocarci ancora io Peggy 72 bla 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 Peggy 72 come siamo a panicare? eh rilassati Ratti non fare il tesino sto facendo la tesina mentre guardo ah femminile perciò Ratti è una ragazza non l'avevo capito sta facendo la tesina non il tesino ma che sai in red angola? non ne ho capito la tesina quando sei nervoso e ti irrigidisci tutto di colpo no? tenendo le braccia rigide tese e gambe tese quella è la tesina no ma sul serio che è? come un esame finale che si deve fare? è il tesino rigido allora ascoltate dai seriamente si accettano si accettano idee perché devo devo fare il video oggi ragazzi perciò cerchiamo di realizzare qualcosa di bello chicos tengo che realizzare il video oimismo quindi se avete idea di un movimento che posso fare per il mio personaggio per favore qui siamo ragazzi se vuoi aiutare il doctor a chiedere il movimento il movimento dei miei caratteri por favor dicami vostra idea e magari considero di abbiamo trovato il nome del tuo ballo personalizzato la tesina mi irrigidisco e mi butto per terra dai dai mi faccio che cado oddio fai l'onda energetica com'è l'onda energetica? ma sai quanta gente lo farà? ma sai quanti pochi ma sai quanti pochi hanno il privilegio di essere commander non sai quanti? non ce n'è tanti vai a vedere quanti sono vai fatti una risata vai e poi vediamo quando minchia prende il piede crazy justice e se la gente si mangia le palle perché non l'ha preso il tempo dovuto questa partita si vede un po' persa in crazy justice chiedo è il personaggio di pingu pingu monocromatica tu eh cromatica? si monocromatica c'è sempre lo stesso colore vede non si dice chi? monocromatica si dirà chi è vero? vale ma è qual è il personaggio del manga che sempre tiene il pinguino perché sta così ossessionata con lo pinguino dimmi no muoio quentalo tio Ale dai diselo quenteselo madre mia che partita più diselo match diselo cari mira cari come come reazione se ti dico che io in verdad debajo di questo disfrazio da ombre perfetto sono in pinguino inserlo come 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 lo veste questo che è? monotematica che che è monotematico come monopatine poi monotematico mi dispiace tantissimo di aver comprato 15 euro volevo dare vabbè ma tanto se non ti sei raga come avete visto nel post che ho postato su crazy justice ci saranno microtransazioni però è meglio che io tutto così almeno voi decidete in base a quello che vedete che io ho già comprato se ne vale la pena comprarlo meno che non voi che spendete i soldi gratuitamente capito io per quello ho preso il pacco più alto perché avevo intenzione proprio di fare da scudo alle persone che vogliono comprare qualcosa così guardate analizzate vi piace lo comprate se no non spendete neanche il soldi raga basta mi alzo dal divano grande buona decisione o la gabri ma gabri gabri è nel della nocce io sapevo scherzato a dare au a dare au ciao gabri un abbrazzo di grazia cosa dice vedo già il tuo portafoglio che si dice no guarda ho fatto un'indagine per vedere in media la gente quanto spendeva o quanto ha speso per fortnite mi sono fatto due calcoli miei e vale più la pena a fare come ho fatto adesso perché poi mi conosco se il gioco mi piace troppo vado a spendere il triplo rispetto a quello che ho speso adesso non ce la faccio è meglio che spendo una volta anche se non mi piace non me ne frega niente però se mi piace il problema nasce lì se mi piace troppo il gioco poi alla fine mi trovo dove compro tutto anche la madre del produttore mi vado a comprare mi compra la madre del produttore ormai questi sono termini slang italiani che derivano dal e poi hai capito? si qua c'era due c'era due c'era due e me lo levano tu morirai figliolo non per mano mia io sono solo uuuuh frank ho visto che eri tu mamma mia quanti piangeranno qualcosa ho visto lì scritto fortnite dove? è nel qua nel tipo quello che scrive la gente no ma spero che ragazzi io spero che esca fortnite per switch perché tanto sarà un gioco gratis hai capito? perciò lo puoi scaricare cancellare fare il paragone con crazy justice visto che tutti dicono che crazy justice copia da fortnite se io avessi fortnite per switch riuscirei a fare quello che voglio farlo vedere no? certo è vero perciò magari uscisse io sarei proprio felice strecco di audio ti ridò i 10 centesimi della villa qua 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 oh raga ieri ho fatto vedere tototruffa un pezzo di tototruffa jessica sono il proprietario scavorsa gorgonzola cacci cavallo cacci cavallo mamma mia che fammi luce già ti vuole mentinare i formaggi italiani per favore minchia ragazzi dai che tra un po' arriva il camion umanitario dal sud sud Italia io odio handicap match questa è fatta con la bocca ancora ma troppo cazzo ci sono un handicap match non si dice mai che se ne è bravi mai sarà dillo bene ciò un po' brave siamo ma si cocco farli vedere come balli e cocco balla giù bravo in mia infanzia mi incariñé con un pinguino però le tuve che dire adiós e stava tan obsesionada con los pinguinos che hasta tenía 4 peluche desanimalo dai viene eh eh ma tu lo sape che lo pinguino vale non te lo potevo dire si il pingu cocco bello cocco balla dai questo lo tira basta che gli metti la musica che gli piace eh inizia cocco balla occupato 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 ecco chi no io non so cosa farebbe ci sto guardando tipo ma vi state prendendo in giro a balla c'è 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 si connesso Marco meno male che stiamo finendo la live minchia ci ha messo per alzarsi dal ma io te l'ho detto secondo me Marco sotto sotto è culone per quello ci metti tanto tempo no secondo me Marco me l'ha lenta tipo no no non posso desirlo cari perché se ti piace tanto tanto non posso distruttare non posso no no meglio che sia mandolos e che non sape la verità dello pinguino perché credo che ti va a affettare molto questa verità Calamaco guarda ti dico solo una cosa Jess ha detto che è il culo grande ma no come no è registrata la cosa si si non falla scema Iurino Iurino formichino si no Frank si vede già e noi sai cosa faremo no ci facciamo ammazzare perché devi donare il porcellino che scema quello è è ritornato su hai visto te lo giuro Marco io ho tentato di difenderti però lei l'ha detto prima l'ha scritta su un pezzo di carta e mi faceva con la faccia tipo dai dai lo dico lo dico che fanno ridere e io ho detto no Jess per favore come no Frank è vero o no non è vero io ho detto che è Marco lagga in vita reale in vita reale non è vero oh mio dio oh mio dio minchia si vai ragazzi come ieri sera non dito in culo e tutto passa adesso l'hai incazzato è già triste non ti ricordi che è sensibile cosa è una pianta che è sensibile minchia è sensibile la mia pianta entra veloce Marco e ammazza dopo per favore si che gli do adesso il gioie pedagè vai vai ammazza doc che c'è questo cechino poi io faccio il tipo per Frank ce lo sai no ma che fai no stavo guardando in quanti eravamo si effettivamente altra partita altro handicap match basta mi sa che l'ultima è l'ultima che facciamo pubblica perché a me tutti questi cazzo di disconnessione dopo un po' ti e questa è l'ultima si 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 privato privato basta vamos in privato viva cari si si 22225 bravo 5 5 2 2 magaroni madness how are you today how are you ho messo 3 2 scemo scemo quella non è famio ma quella è gula come si chiama l'italiano gola gola no aspetta e mi mette in gordigia mi mette un cookie una torta e un don e no my friend madness how are you mamma mia maccaroni madness si si maccaroni more like like mandes 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 hello nintendo mandes hello nintendo mannes how was the pizza today nintendo madden e se poi giocato mandes patung ah no it's morning at yours good morning ciao santa ciao shut up bibi cocco come c'è il culo rosso adesso è come le piume c'è le piume nel culetto no not for breakfast enman how's that manca sempre ogni volta che lo vediamo mangia lui ma no no ti prego no capito vai vai facciamo aspetta 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 che faccio compiere il sonno di mago ragazzi quello che vi voglio dire io è una cosa sola qui c'è Africa contro il resto del mondo non c'è nient'altro guarda team alfa Africa il resto del mondo bravo doc faccio una cosa devi stare in base dai è meglio perché con te in quel caldo pro 3000 non ci gioco giochi con me eh frank giochi con me veramente come si dice come on everybody non ti lamentare frank giochi con me no devi dire cagone prima di dire quello mettiti l'ombrello dai si mettiti l'ombrello così ti pare ma devi mettere il blaster cosa? è il blaster non ne fai di cacchio solo che non ho il mio blaster è il mio con le fiamme quello enorme che pesa più che l'inkling per sé quello ma come doc non ce l'ha no fai te non ce l'ha come no no non quello che va bene per le dai schiaccia io ho schiacciato ma non mi metto il nervoso dai ma nemmeno l'arma jessica non lo sai fare quella ti prego cambia come lo lasso usare frank tardi dai dai fidati di me mi dobbiamo solo mettere maco un po' nervoso tranquillo si basta vuoi fare il nervosire maco ci mettiamo un po' ci mettiamo un po' ma solo che l'arma è sbagliato a prendere l'arma è un blaster è l'unico blaster che mi sembrava che che blaster hai preso è l'unico che non è lunar cioè non è un blaster già come non è un blaster oh mio dio non è un blaster è un mezzo blaster questo e cosa è se non è un blaster non è un blaster veramente non è un blaster che l'ha detto che l'ha detto tre volte oh aspettato come è successo non lo so eh non è un blaster ma va bene con un blaster che sto facendo che sto facendo non lo so freestyle per la parete cosa sto facendo non lo so l'emozione forte di sta musica è blaster oh mio dio oh mio dio grande oh devi fare un meme di questo oh è che voi non lo vedete ma è veramente divertente Frank guarda tu sei non morire ti prego no non mi sono spaventata cosa dite Miki Miki and hi Mifty yes everyone is allowed to join sure it's the first private match we're doing it's the first no cioè ma tu ancora devi andare via in 10 minuti hai salutato Miki Mifuse di questi tu mi hai lasciato no perché mi dovevo aver lasciato si sono in stream come stai poi eee che cazzo è questo rumore può essere il ventilatore il ventilatore si sta rompendo si sta lamentando nooo si ho capito che ho un calibro non so che numero però no 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 non vogliamo fare questo perché non riesco a salire le mure le mura sto come mezz'ora fa come Michele ti da mezz'ora qua e non hai detto niente grazie i due persino non era sufficiente che mi ammazzava uno non ho giocato che sì o che no hai giocato bene oh grazie ti spiego ti spiego una tattica tu devi cercare di tenerli bloccati in base che devo cercare di di tenerli bloccati in base ah con i blaster dici o in generale no in generale in generale ah ok eh ma vale mi prendo a cuore il tuo consiglio se no che per la mia maniera di giocare mi vedo più abile a mantenere colorata la zona che mantenerli chiusi non so perché eh cambiare ma è per te se vuoi semmo semmo il canzo è scurturabile in voi io io ce l'intuito molto Mifti, per favore, spieghi con il vostro pezzo perché se non lo so, ci saranno l'abbiamo perduto handicap match parecce il grito di mia abuela in un ventilatore ma infatti grittava pinguoo, l'ho sentita e stava grittando you'll change your name after this match now will you be called Mifti si va bene non è importante che cambia il nuovo video oh 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 ciao Francesco come stai? ma che vuoi? no è ciao Sabrina, ciao bellissima come stai? si chiama Francesco in realtà chi se ne va? perché Marco dopo? ah Marco ma tu sei stato molto corto meno male ciao Marco ciao 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 no binguoo sicuro che stanno tutti studiando si a chi le spagna tiene una media dell'intelligenza superiore all'Europa te lo curo che la nazione che mai si studia ma al mondo o almeno se lo dicono ah ah il mio cagnolino dai dai e io quello devo fare solo andare avanti così pigliavano il bazooka ah io mi devo stare in stile ciao io così tranquilla qua come se fosse ragazzi tranquilli che appena abbiamo i 50.000 utenti non cagheremo più nessuno ma dai Frank è grandioso bravo veramente bravo e ti dico che oggi stai giocando da una posizione migliore rispetto a quella di ieri perché colori e colora subito per quello ti ho detto bravo eh oh 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 Victor Victorin Victorin ma dov'è dov'è a chiudere non dovevi salire eh giovane fuori classe vieni vieni Sara vieni vieni Sara vieni vieni dove vai dove vai fermati fermati sì dai ho finito anche l'inchiostro dai ma babba veramente barbagianni niente 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 Gemma hai accettato le amicizie prima brava 2 a 0 per noi nella vecchia azienda agricola icola icola oh quante bestie allo zio c'è scom oh vaffanculo dai bene hello 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 yes 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 i will accept sorry guys i'm not reading the chat so dove cazzo è il bazucapra allora allora oh my japanese friend hello 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 allora jesse travacando dog se sente solo no no sabrina oggi guarda oggi dobbiamo dobbiamo fare la live cioè non faccio la live di minecraft ma devo fare il video di igodi city quindi quello sarà il nostro lavoro di oggi igodi japanese friend già non vedo la chat perché frank logicamente anche lui è in gioco hola victorin hello japanese friend and hello little nightmare who will accept the request in a second come si ama in youtube la falsa piglia hi andreas andreas how are you andreas andreas pigu se lo prende yeah eeeh oddio te lo ricordi come si chiamava la ragazza di eh tipo pigu no pigu felice o algo così no pigu tendrai che mirare tendrai che mirare si vittor jesse starà chiedere por 5 minuti a un e despues se va ora mismo creo si sta yendo ya nella vecchia fattoria iya iya oh wow mifty boom 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 ok ok mickey thank you for the heart oh mio deo thank you for the heart my japanese friend thank you so much good job good job mifty we broke dear us nella vecchia azienda agricola piccola piccola oh per un metro vabbè io non stavo giocando eh mi spiace questo è per avermi spibagato io non stavo giocando io speravo che giocassero in due ok here we go mamma mia allora nova hello nova you here nova hello nova vince e vincenzo jè e questo nova nova non risponde lil knight welcome lil welcome 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 no te vayas jess vittor dice no te vayas ay vittor tengo que ayudar a gente a aprender idiomas bueno tengo a me la pregunto it's me mario it's me ya me gustaría a mi quedarme y continuar jugando quanti godi a zio tocchino ya ya oh michi è più grande di qua qualcun aiuto? san michele tutte le sere spunto bu 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 Non mi ricordo Lei è una minaccia? Sì, è una minaccia Dattemi il mio cazzo di sub ora No Pingu, mi piace le lezioni di video gratis Grazie Poi giochiamo ogni giorno E abbiamo anche un giocatore Se lo guardate nella descrizione Abbiamo un giocatore E finisce in 10 giorni Quindi potete partecipare Nooo, amici giapponesi C'è un giocatore C'è un giocatore Oh Yurino, è difficile adesso seguire tutto Credimi Perché già se ne va e rimango da solo Ah, mi stai dicendo qui, non esisto Omar Buon... Buon niente Mi stai sulle palle Perciò non ti dico niente Buon niente Speriamo che anche a te venga la schermata blu Nel computer come viene a me Proprio Omar Viro mare quando è bello Inizia dottore Dai, facciamo igodi contro il resto del mondo Ma non tutti quanti igodi Infatti Igodi versus rest of the world Siamo tutti igodi Ah ok Infami contro non infami Oh mio dio Quindi noi siamo infami Sì Ok Anche se il nostro team si chiama la squadra brava, noi siamo infami Non è bello, che bello Si Lo chiamo LIL La password è cambiata per ogni due ronde Cada due ronde, sì Abbiamo cambiato la password Abbiamo cambiato la password Abbiamo cambiato la casa Abbiamo cambiato la casa Abbiamo cambiato ogni due match E se è pieno Significa che ci sono 10 persone Nel primo match Le due ultime per entrare E nel secondo match Le due persone Nel secondo match Toc Il pennello Dai Senti Bella Potevi anche dirlo Che avevi solo voglia Di prendere il pennello Articolo 31 Ma va Sì ma tempo fa eh Ma vaffanculo Ma non la conosci Ah no è vero che voi Degli articolo 31 Ascoltate solo le cazzate Che Jay Hux dice adesso Ok sì ok 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 Dai dai Basta E di yoga Non bisogna dire Stai zitta una persona Taci Frank Io ti amo Visto che oggi è il mese del Pride Perché non è più il giorno Ma è il mese Amiamoci 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 Io sono pandolfista Com'era quelli li chiamano tutti? Eh? Panofilo? Eh? Come si chiamano quelli che amano tutti? Pan sassuolo Pan? Madonna che schifo Ma anche le mie scarpe Nike che puzzano Amano secondo te quelle persone? Sì Tutti? Professora Pingu Pingu De che dà classi? Io mi dispido di voi E se stai nel stream della noce Ahi nos vemos Nos vemos in coche Ragazzi vi saluto Passatela bene Splattate anche nel mio nome E se siete questa notte ci vediamo Niko 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 Nini Niko Niko Boom Boom Ciao mon amore Ciao Ci vediamo stasera? Sì Io se riesco vado a fare spesa Se no stasera si mangia cazzi Cucuzzi e ova Cioè ben poco Ecco Vale Ok Sì Perfetto Ciao Ciao Yeah yeah Andre Andreas We are really far No really? Not far Near We are really far Ciao ciao Oh 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 Mario Kart Sono in base vostra Oddio Oddio non più non più Io Oh 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 Io manco Ho perso tutta mia casa Ehm Aspay Ratti Che adesso voglio sentire anche te un pochettino Visto che non c'è Jess Oggi facciamo entrare qualcuno in chat vocale eh terrorists Facciamo entrare ancora un italiano uno spagnolo sembra una barzelletta oddio oddio sono in base vostra sono in base vostra così recuperano spazio ragazzi non mi dovete seguire però siete stupidi cioè se voi seguite me la mia squadra prende tutto il vantaggio ah tactic boy i go really near the base of the enemy all enemy follow me and my team can paint all last summer yeah in the summer I think it's a really good stream because all guys are outside the school so make soup it's really simple but not simple hai visto come si vince una squadra so guys we restart the lobby new lobby new code new home cocco dorme ma cocco come fai a dormire con papà che fa un casino così amore ma sei sordo sei un pappagallo sordo amore mio si dormi fai la nanna fai la nanna buonanotte buonanotte e quindi io vorrei in chat vocale il mio patron io sto aspettando in chat vocale il mio patron buonasera 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 no oggi facciamo oggi facciamo oddio ma cos'è successo chi è che ha accettato ragazzi io ok come ratti most of my life right now is pokemon quest yeah you are addict to pokemon quest i don't have play a pokemon quest andrew i call you andrew sorry but i love the aka andrew andreas is fantastic but my mind always fail 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 as mondown buon fai la nanna cocco stavi dormendo adesso non cagare il frisco dai mettiti da dormire che ti do una mazzata in testa che ti faccio dormire io che arma sarà? non l'ho visto? vediamo mamma mia che palla lo spara su poste quello cos'è? perché scrivi e non parli latti? dimmi hai il dono della parola? c'è gente che ammazzerebbe per parlare ma stai studiando tra virgolette no no ah ah ho la mia ho la mia ho la mia ho la mia non lo so non lo so non lo so play to free game man, it's my primary problem minchia ma veramente Sara hai sparato benissimo quella cosa però MFT who's right here we we play in normal mode so if you do if you wanna my my moderator always clear your message you continue to write I didn't see and I think always they block you so Julie Tendo Julie Julie Tendo see wow wow little knight perfect yeah yeah I tell I tell you because they do what have to do so this is not a democracy this is a dictator no non è una democrazia questa è un miniatore vieni con me Giulie how are you oh Marco forse il nuovo account di Giulietendo può essere perché mi ha detto che non aveva più il cellulare ha detto ah è vero ma Marco non c'è più io Marco ormai ce l'ho come bot capito già sta minchia fa un casino cocco l'acqua ce l'hai ciao oh Frank come la vedi ce la vediamo dal cazzo questa persona pensa a giocare bene invece no perché devo guardare la chat devo fare tutto io tu stai giocando bene io devo controllare però inizia a essere molesta non la rego più poi se vuoi vincere veloce basta che me lo dici bufo wow boom eh no la mia non funziona invece dai va bene va bene se vuoi giocare bene non devo guardare la chat gioco bene però non è che ha un senso anche perché adesso andiamo a vincere cioè dai queste sono le partite dai 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 buon game guys gi 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 parla attima non sei in un chat vocale sì sì la senta lo faccio anch'io che bello ti dà quel senso di cos'è la prima la seconda o la terza partita che facciamo fai schifo vai ok siamo pronti a prendere una vagonata di di piscini gnocco io ho visto un gnocco uscire dal gioco non so se prendere il blaster è ridurre che è iniziato a tanto aria quindi no era una vendetta ti guardi però scusami chi non lo fa e non lo fa e sono salti sono veramente salti eeeh fra andiamo a riavviare adesso doc sai che ti dico la palla a griceto ritorna no ma tu non mi hai scritto baggato però mi hai dauntato dauntare sai che significa comunque sassino ok ok l'innite sassi e doc ora ti copro cocco oh no la coppia marito e moglie insieme so cacchi sassi comunque perdonami per quello che stavo facendo per quello che sto per fare è anche tutto doc doc inovina che era l'omisso eh indovina che arma ho messo non lo so aspetta che ho coperto cocco se no gli do una mazzata tra capo e collo indovina che arma ho messo indovina che vi ho inculato a tutti e tre eh tarun wow wow Sara grandiosa ma c'è una parola che inizia per S e finisce per Uca sai qual è? scemo no è inizia per S e finisce per Uca eh vabbò poi tu scrivi sorpresa oddio oddio sorpresa un cazzo una bolla criceto no no hai pelea intonse e pacchevin eh mi fai un favore zittisci un po' quella persona bravissimo sasi hai vinto l'abbonamento mai rispondere a quella domanda neanche hai capito cosa ti ho detto no questo si ma per ascolta ti ho chiesto un favore di ponere un po fine per un bel po tipo per sei minuti a una persona che sta scrivendo cose che non dovrebbe scrivere che non è sasi è vediamo se la trovi new lopi sorpreso un cazzo non hai visto è vero chi l'ha da togliere l'ho capito però io lascio perché poi so che non farà un'altra volta lo stesso ruolo ci penso io io non voglio fare più un cazzo io pensavo di riferirsi a sasi no no sasi doveva scriverlo per prendere l'abbonamento karma or kai o gesù e chi è chi è questa persona karma chi è karma 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 can you understand can you understand can you understand english and no sorry we don't speak english normally we speak english italian spanish my wife speak katalan and dutch it doesn't speak english very good but he understand it no bra bisogna no no ma saluto ma assordo nova assorde nova si was waiting the people who can come inside the room so guys enter the code was 5 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 Quanti cinque? Cinque cinque. Quindi cinque volte cinque. Ratti lascia stare. Karma, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale, perché al final del giorno vedo i iscriviti e se non siete iscriviti, vi leggo dalla mia lista. Sì, lo so. No, 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 no. We are so bad people, but. And remember we have a giveaway. If you want to participate in our giveaway, you have the link in the description. It's a little prize because we do six months of community. So at the day of six months we do a stream with the result of giveaway. madonna ma quanto cazzo sono britici attenzione che bello non lo so frank basta sono ignorante ma io non lo so spagnolo risa vuol dire che la fai ridere quando ho parlato spagnolo scusate mai però boh cari ama i pinguini cari mi sta preguntando il frank dice però quando è che io ho parlato spagnolo e io lo dico nunca si ha parlato spagnolo è che cari ama i pinguini spagnolo? l'unica cosa spagnola che conosci sono i quartieri spagnoli si sarà si sarà ok you speak spanish? ma che cazzo sta succedendo? basta basta ratti grazie grazie ratti e ratti oggi ha fatto la ha fatto il mago grazie ratti come sempre però parla cazzo c'è ciao come fai? ciao qua se ci vedono penso veramente il male tutti quanti ma i coglioni va bene ciao youtube ciao youtube fai cacare ha detto come frank non hai mai parlato spagnolo non dire bugie mamma mia che tesa sta partita già ho lasciato ho sbagliato ho lasciato ehm karma good shot really good è un bug è un bug non ti preoccupare tu capo d'umbrella che tesina questa partita eh? che tesina abbastanza tesina si dai che dopo registro mica il movimento dopo registro il movimento sono motivato oh ma perchè il mio team non stava pensando a bazookabra? bazookabra wow oh fra oh fra mmm ma non lo tengo bebebebebebebebebebe oh oh wow ma solo a giorni alterni ah hola, hola, hello david, hello italiano, espanol, ingles, ingles, tell me wow, wow, wow why bye, david, why people enter, salute and bye, bye wow, wow, wow wow, 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 wow morto, lo sapevo, esploderai con il mio cane no dai dai, lavati dal cazzo tu invece tu mi stai sulle palle dall'inizio, guarda bye, nifty Ciao team, ci vediamo! Era una negativa match, non è vero? Sì Sassi, guarda, ho fatto una kill bellissima a Sassi e ho detto oh mio Dio, e che l'ho fatto? No, Kai, Kai Here, we say always GGG Good game Guys Ma cosa cazzo stai facendo? Devo azionare? Devo azionare Devo azionare One more guy Infatti, perché mi schiamo lo schieno qui Ci ho crashato No, devo arrivare Tolgo il codice, sai tolgo il codice per un secondo Allora, aspetta che io adesso voglio fare una cosa voglio bloccare quelli che entrano e escono come i coglioni, perché poi alla fine mi fanno solo perdere le staff Siamo già in trick Purtroppo Siamo già in trick Troppo Anche se in realtà Ratti non sta parlando però comunque siamo in trick Io sto parlando Stava parlando Se tu che non lo sei l'hai bloccato Non parla con i punti Con i punti esperienza Dai, vediamo se Marvyu tra dieci minuti chiede quando facciamo la live, dai Ok Quello che mi chiedo io è, no? Ok, la cosa che mi chiedo io è E' ancora dentro, David David? Che cazzo di problemi hai, David? Parliamo, ne? No, non ne parlo Stai parlando No, guarda Sassi Facciamo a breve, mi sa, qualcosa di Di Come cazzo si chiama quel gioco lì? Aiutami, Frank Mario Cazzo Mario Cazzo Tu farei Tu farei cacca nel bidet Anche se comunque non è facile Non so perché loro Arma ok E l'innati E l'innati E comunque non è facile Comunque Sassi Dopo facciamo un video No, cari Stiamo parlando N3 Perdona però Normalmente maschi e tre persona no In quanto sei libero a un posto Si se va a Frank Si se va a Elotrachi Come si chiama? Ratzinger Come si chiama a Elotrachi? Ratzinger Come si chiama a Elotrachi? Ratzinger No? Dimmi Dimmi Si Mettimi il microfono un po' più vicino Perché si sente malissimo Ora Perfetto Che poi ha anche una bella voce Non capisco perché Stai lontano Ososo Se canto ti faccio La live No, se canti no Puoi cantare tranquillamente Ti dico la canzone anche Se vuoi Così abbiamo mi faccio Però se mettono la canzone sottofondo Ti sottofondo io No, perché poi ci cancellano anche i sub e tutto Che abbiamo fatto oggi Lascia stare Poi Però ragazzi ho da dirvi una buona cosa In poche parole adesso C'è Manu Chao, no? Che abita qui dietro casa mia E Li voglio chiedere se posso mettere le sue canzoni in live Visto che comunque E' una persona molto molto a modo Che vuol dire è bravo? A modo vuol dire che è bravo E' una persona molto E scoppierai con me amico fra Cari, già una vez te lo dico Niente di interessare De Frank A ver Mi sembra che ti piace Se ti piace Se ti piace così molto Frank Quando ancora non aveva novia Tenia che parlare antes No ora 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 tiene novia E tiene che Rispettare un pochito Perché io non chiedo che se fate La compagniera Sara Ma siete morti tutti nell'altra squadra? Ah no, no Stanno giocando Oddio, oddio 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 Oh mio Dio Tutti morti vi voglio Gigi per Sara Na 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 Mica ma stiamo perdendo così tanto raga Baka baka Oddio 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 L'ho lanciato il cagnolino Ed è caduto direttamente in acqua A mio pensavo che un tiro perfetto Invece no Cazzo no 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 buce lil col trattore in tangenziale andiamo a comandare fumo acqua minerale e vanno a vincere good game il godì ma io l'ho corrato e l'ho scurato ho fatto un'altra volta 3 kill madonna è un ritmo tropical ho letto off da Kai ho detto oh no oh no sì Sara se senti tuo nome è perché ti sto nominando come on guys enter in our lobby oppure sai cosa minchia qua se ne vanno tutti frank ragazzi dove andate bu dai andiamo a fare il video di minecraft ok 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 ragazzi credo che questo è il ultimo match e poi dopo andiamo a registrare un video in nostra città in minecraft perché dobbiamo mostrare alle persone le nuove cose in minecraft però fammi piacere metti qualcuno spettatore se non la tu da chi hello holà mi puzza il calamaco di plastica perché metti qualcuno perché metti qualcuno spettatore scusa orecchie di gomma e se non faccio un handicap match e non voglio fare un handicap match ora no perché orecchie di gomma ragazzi uno più ducky sì vedo vedo il tuo nuovo nome ducky and I love so much you're me I can metto qualcuno spettatore quindi Frank sì sì Jack Frank è morto Sara zitta e subisce adesso dai per favore fai la seria è il momento di subire bull bullizzata we wanna bull bullying Sara ma no dai sì no non dupo la doc purtroppo non dupo che scema oh ma mi piace che stavo pieno missing eh ma c'è avviciniamo al cacchio di che venghi microfono no non hollate non hollate ragazzi ce l'hai messo in bocca ora sì tu lo dissi grande io non cambierò mai oh ma no no non domicare Sara mi vedi come sparare Sara svegliati è primavera Sara svegliati è primavera Sara Sara la mia prima ragazza si chiamava Sara wow sì la mia la mia primissima ragazzina era giovane non esistevano ancora i manga c'era una vita sociale ci si incontrava e ci si parlava e c'era il contatto questo era il bello della vita prima ragazzi le due donne ci stanno ragazzi non è che dovete farle vincere perché hanno non hanno il peperuolo dovete dovete splattare anche se non tiene un peperuolo sicure madonna mia madonna santa sicure sì il pisquano ma duca dove è andato a finire raga è ancora in galera eh quello era un linguaggio in codice stavamo parlando in codice io e Frank wow 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 little knight so good sembrava di essere allo specchio per un secondo no 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 brava sarà ben fatto reazione reazione immediata sparo istintivo così si fa holy sheep voilà dove sarà dove sarà mi sto spaventando sto spaventandomi bene bababa ho Oh! ma no 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 no! Non è possibile! Oh! Perro di mierda! Ah! The compulsive dog! Il cane compulsive? Aiuto! Helmi! Via 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 via! Sara hai spaccato i maroni veramente! Olè! Olè! Frank! Giochi seriamente però! Hai voglia? Sei un buffone! Ma vaffanculo! Sei un buffone! Devi scoppiare proprio! Un buffone esplode! Veramente! Hai mai fatto fumare? Un rospo! Esplode! Sì! Perché non può rilasciare il fumo! Perciò inizia a farlo uscire dal... E adesso... E adesso... Arriva la giusta punizione per Frank! Nooo! Sto scoppandomi! Ah 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 ah! Ah 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 ah! 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 test the microphone, the voice of the people who want to talk. So, right now, no. In five minutes we stop the game and we can test your microphone if you want to. And maybe in the next stream, yes, you can talk. But just a while, because we are not here for talk, we are here to Splat. And welcome to our Discord server. Welkomme. Tosco pandemi. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Wow. mamma mia mamma mia mamma mia come corsa indietro chi era sorry guys for the handicap match but Frank cannot play right now ma dove sei Frank? ah sei quello che manipola le partite capisco sei un juventino bravo Moji Igo di Moji ti chiamiamo a te da oggi in poi lucky hello lucky papa oh my god wow lucky you are always in lego huh you are addicted to lego right now no è bravo wow 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 oh mio dio oh mio dio oh mio dio i godimogi lo devi chiamare cosa non si fa per la fessa hai visto bravo bravo cosa non si fanno per le donne lo dico che non si fa per la fessa è quello il concetto è la donna la bellezza della donna la bellezza non è racchiusa anche in quelle quattro lettere i cinque lettere io cucino tutti i giorni lavo e stiro fai te frank deve solo farsi squidare va meglio a lui è game game i understand you lucky but what ragazzi è un po troppi calda niente sassi niente 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 sassi torna a dormire tranquillo lo spiegheremo quando sei più grande un momento fantastico che ero giocando a zero che non si fa guarda come è infelice fra ragazzi 10 minuti e il stream finisce stavolta gioco veramente quindi ricordate di spiegare il like button smaschelo no thanks si hanno un buon feeling quei due hai visto c'è feeling fra quei due no 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 anche tu frank no lui c'ha fine salvatore tu la pensi sempre come me benedico quella tetta che mi ha fatto bello e figo la cicciavo giorno e notte mi chiamo federico è vero io che stavo all'altra tizza e soffiavo ore 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 non usciva manco latte e mi chiamo salvatore mazza perro compulsivo è bello eh amiche guarda che veramente federico salvatore era un grande adesso non lo so però non lo seguo più cioè non so neanche più se faccia canzoni bu 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 18 io vado a chiudere un po' in base sono scarso faccia schifo mamma mia ma Sassi senti sempre male tu chi ha detto Salvatore? chi? queste manie di protagonismo che hai mamma mia si vede proprio che sei fratello e Frank anche Edo si chiama Salvatore anche Doc si chiama Salvatore siamo tutti contadini dove sei? piccolo porcellino? oddio buffo madness buffo madness is coming sono troppo sono troppo addicto a lego davvero? davvero 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 non ho capito bene ma ho capito che inizia per F F ah come si giovani d'oggi ahhh FK ma che ne so io non parlo come mangio come mangio? come parlo? ma parlo come parlo come parlo parli come parlo più o meno si più o meno si più o meno si e se mangio con un cucchiaro? parli cucchiaro un cucchiarese a scucchia a scucchia a scucchia oddio oddio la Ginkana oh mio dio oh mio dio oh mio dio oh mio dio dov'è dov'è dov'è? wow 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 leonite you are a good player si che cosa? che cosa? io te ne ridò venti adesso se v'è lo scemo quello disse il Peris se devo dire dirlo per carli fragilisti ehhhh sto su un euro io se lo dici tu no no io non io sono non posso perdere popolarità con queste cazzate dicendo super carli fragili sti cazzi beh ahhh Aha ah cardboard ma cosa c'entra? che hanno parlo Perché Federico è qui? E chi è Federico in realtà? Ma lui non può parlare Lui quando gioca non può parlare Perché se parla non riesce più a giocare bene Mamma mia Hello Tostino Guarda c'è un moderatore che non riesce Veramente neanche a bloccare le persone Quando dico Blocca quello Neanche like mette Neanche E stai dicendo questo Aspetta mi sta arricchando Hello Hello Igo di Jazz Guys I do the last Match Chicos A parte che non c'è nessuno spagnolo Ci sono solo inglesi Mi sa E italiani Eh sì Sara Non so Io una rivolpella Mi trovo Cioè Ho già spiegato il motivo a Doc Perché l'agga bestia L'agga bestia E non riesce a ammazzarlo Quando fa le capriole Mi permette di muovermi Velocemente Sì sì Perché è povero In Italia Ma che si può permettere Perché ne ha due al prezzo di uno Ok Ok Ti facciamo noi E io non siamo noi Ma se stai venendo le armi Adesso si fa tu No Non so Niente Eh Lasciamo perdere Dai Ah Non parli più Ma ti ricordo Tu sei in livello 95 E io ho 18 Sì Ecco Ecco E sono Secondo me tutti La fibra Incredibilmente Veloce Che palle Che bello italiano The code Of the beast Doc Mi chiamava Tim Mentre parlo Fai rispondere a me Metti il telefono girato No Dai 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 Fammi parlare a me Con la Tim Vedi Secondo me Sara Veramente Tieni una delle fibre Più veloce in Italia Eh Sì Capito Sì Ma perché lei è fibra Per quello Il codice Il codice Cara Sara Il codice Si trova solo Nei poppy corn The power of sol So guys Come on Enter This is the last match Sono tutta paura Di mettere un codice Sei 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 Eh This is the last match And later We go To record One Minecraft Ego di city Town Town Dai ragazzi Ma come cazzo fa Checco bomba Checco I mortaggi tua Checco A me Ciccio Gamer Piace Ma cosa Volete Quindi dire Ma riuscite a entrare Riesce a entrare Frank No 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 Mi sento Troppo Di merda Checco Ma come cazzo Giochi Checco I mortaggi tua De tua madre Checco Voglio fare Non è a livello 30 Renta One more Please 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 Curiosità Se capite che i giapponici dicono Please Please Dove c'è la L Dicono la R Come cazzo è al contrario Poi la vocale A fine di parola Non la pronuncia Cazzo è al contrario Eeeh Eeeh No Sex Non lo trovo Sei cosa Cazzo è al contrario Non ho capito Ha detto che sia un culone Ecco Insieme a Marco Insieme a Marco Non dissere Marco che arriva dal nulla So guys One more please Non dissere Marco che è quello di Splatta Anche da Non lo so Da dove Splatta anche se non sta giocando Ma fammi vedere una cosa Oh silenzio un attimo adesso Silenzio un attimo Che voglio vedere se funziona la ruota La ruota La ruota La fortuna Mamma mia guarda C'ho sempre io Io non la vedo però Non lo so Mi sembra che fosse così sarà Sai Non mi ricordo bene Ho visto ieri un video Che parlava di Le curiosità dei nomi giapponesi Sare Ma abbiamo parlato anche di Wakapai C'è assoluto Quel hacker che ha distrutto tutte le case di Minecraft Eh doc ti ricordi? E quando il diretto va a puttana inizia il delirio E' uscito una cosa ho messo Bongo il gol Non lo so neanch'io perché Ora sarà Ah oh che ecco vaffanculo che ecco Do cazzo spari che ecco Oh che ecco Non mi scappa la voce i cicciocchini me lo sai Perché non sei cicciole quanto me Cazzo doc Dimmi E se ti dicessi Sono 160 chili Maco mi viene in mente Dimmi l'altezza anche perché potrebbe non essere lui No comunque tu sia uno sto Franco Bomba Eh sì Franco Bomba No Micà adesso ti chiamo Dai dai ti chiamo Franco Bomba adesso Franco Capo di Bomba Capo di Bomba Capo di Bomba Chi vuoi più bene a mamma o papà A Pippo Baudo Sara Oddio mio A Gerry Scorsi Oh mio Dio Oh mio Dio Grande Grande Fra Fuori dalle palle però adesso Dai splattato così A malamente proprio Da chi? Chi che l'ha splattato Sara? Minchia Daki Samurai Yatta Yashibarai Sto scoppandomi Ah 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 Eh come merce diciamo che è molto Equilibrato Le squadre stanno tentando alla pari Daki Daki Vai Daki Yeah you have Claim claim Go Go Dimmi bello Ma io ancora Stai in reacción Ah tu ancora non c'è in reaction Ah 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 Te la Te la Guarda te la faccio Al prossimo gato Perché tanto Adesso Dovrei già mettere il gato Vai 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 Grande Daki Grande Daki Come on no raga microfono dai Frank per favore cioè non solo se è un modellatore di schifo uno non sa giocare aspetta visto che stai insultando il mio modellatore dì di nuovo schifo cosa dimmi di nuovo schifo schifo eh come non capisco c'è l'interferenza non farlo scemo col mio modellatore eh ti voglio bene Ratti io posso farlo scemo col modellatore cioè il modellatore è un coglione qua c'è un disignato io fossi in te risponderei ancora pochi minuti eh Frank per dire tutto quello che pensi di questa persona che c'è l'interferenza quando dice schifo ma Frank mi sa che è andato in chiesa adesso sai mi fa troppo schifo ma un po' di spunto ahi qua dobbiamo fare un uno contro uno eh Ratti mi sa si però non ho la sua tun ah non ho la sua tun no guarda che guarda che Frank Frank se non lo sai è un metro e 75 per 163 kg eh c'è abbiamo la saltezza però ho preso a piedi eh hai visto quanto era alto al comi al comicon no però lui ti ha visto cadere ha detto ti dico solo quello te lo giuro minchia Daki è forte eh a Bongo il gol comunque e conosce molto bene la mappa vai Daki vai Daki boom vai Sara che è aperta è aperta la barriera vai 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 è razzista contro quelli di Napoli Salvatore tu tu no Sasi di dov'è di Pozzuoli oh Sasi facciamo dopo il video Sasi parli nel video nel video di Igo di City stai tranquillo dai respira respira tu a Napoli sembra che hai tutti più i godi a Napoli veramente veramente d'accordo con tutti i godi a Napoli saranno tutti felici tranne te ci vediamo il 20 giugno al domani di Margellina d'accordo a Margellina hanno fatto a Margellina e Daki e Daki e Daki di dove sei di dove sei Sasi di no no non dire un cazzo non dire niente Sasi good game Daki really really good yeah è veramente un bravo giocatore in in Mongol Goal eh raga è brava Sara anche tu ce l'hai data tutta ce l'hai messa tutta aspetta 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 adesso adesso stop un secondo che facciamo che facciamo i saluti allora guys the streaming stop now quindi i miei saluti personali ma così pochi siamo vanno a Daki a Fra a Ratti a Sasi a Saretta a Pingu che è appena entrata a Laki 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 a Frank e al Doctor che ha fatto questa live di merda e c'è anche Lil Lil thank you to play with us really in this night we do another stream more more quiet but if you wanna participate don't worry so ragazzi dai mandate un saluto anche a voi per favore ciao ciao Frank il saluto speciale è a Sasi che è il migliore si Sasi è uno dei meglio dopo di me Frank e dopo di me Frank Frank è morto lasciamo stare dai dai dimentichiamoci di Frank allora grazie ragazzi thank you guys grazie a me solo a me grazie a todo che è me Frank è andato via raga Saretta ti ha lasciato Frank ha detto non sono più degno di stare con Saretta la lascio è troppo per me è troppo per me ha detto te lo giuro quindi adesso benvenuta nell'arem del doc so guys see you in I don't know 3 hour I think ok bye bye e venite su discord che ci organizziamo un perico di siti raga si stavo frenzonato stassi frenzonato ciao ciao